La storia italiana, non solo italiana, dimostra che per gli operai ogni incremento di salario, ogni miglioramento delle condizioni di vita e lavoro è stato il frutto di lotte e di rivendicazioni e ha rappresentato un momento della crescita e del consolidamento della democrazia. E di quelle lotte la FIOM è stata protagonista e non ha mai mancato, nelle diverse fasi della storia del nostro Paese, di rappresentare il lavoro, di agire per rendere concreto e effettivo il principio lavorista sancito dalla nostra Costituzione e di ricordare sempre e a tutti che la democrazia repubblicana è fondata sul lavoro.